Individuate tracce di sangue sui sedili della Nissan X-Trail Blue utilizzata da Peter Polverini la notte dell'omicidio di Katia Dello Marino, la 41enne ritrovata senza vita lo scorso 12 luglio sul greto del torrente Afra Sansepolcro. Sul sedile del passeggero dell'auto in usa Peter Polverini in carcere dallo scorso 16 settembre con l'accusa di aver ucciso Katia sono state rinvenute tracce matiche evidenti nonostante i tentativi di pulizia. Le verifiche sull'automobile sul martello ritenuto l'arma del delitto e su uno straccio sporco di sangue sono portate avanti dalla genetista Isabella Spinetti dell'Università di Pisa che lo scorso lunedì aveva ricevuto l'incarico dalla procura di Arezzo. All'interno dell'automobile nella notte dello scorso 11 luglio secondo l'accusa si sarebbe acceso un diverbio tra il giovane e la donna sfociato in una brutale aggressione da parte del San Giustinese nei confronti di Katia. La violenta aggressione sarebbe poi proseguita anche all'esterno dell'auto a margine del torrente Afra. Il presunto assassino avrebbe quindi colpito con un martello ripetute volte Katia alla nuca togliendole la vite e poi abbandonandola dove è stato ritrovato il corpo senza vita la mattina del 12 luglio. Le tracce di DNA rinvenute sull'automobile, sul martello e sullo straccio saranno isolate e verranno confrontate con quello della vittima o del giovane in base all'oggetto esaminato. La genetista Isabella Spinetti avrà 30 giorni a disposizione per riscontrare l'eventuale presenza di materiale biologico nei vari reperti.